Ciao a tutti, ci tenevo a salutarvi personalmente per aver reso possibile anche questa nuova edizione, un'edizione online, diversa, innovativa, ma comunque molto emozionante e di alto spessore, grazie alla vostra bravura e alta professionalità. Abbiamo accolto più di 330 iscrizioni derivanti da 45 nazioni differenti e la città di Barletta augura a tutti voi un grande in bocca al lupo con la speranza di potervi nuovamente accogliere in questa bellissima città, la città di Barletta. Siamo al Palazzo della Mare, Barletta, siede della collezione Giuseppe Lelinis, una collezione donata da sua moglie, Léon Thiel Ruella. È un impressionista Giuseppe Lelinis, vissuto qui nella nostra città, ma poi spostato sulle grandi capitali bambie come Parigi e Londra, dove ha dato il meglio di sé, della sua capacità espressiva e artistica. Conserviamo i suoi bellissimi dipinti e opere grafiche, quindi vi invitiamo a venire la prossima volta qui nella nostra città a visitare la collezione Giuseppe Lelinis. Io non posso che ringraziarvi per aver comunque dato fiducia al Comune di Barletta partecipando a questi importantissimi concorsi musicali. Ci troviamo a rimanere in contatto, nonostante la pandemia ci abbia allontanato, però appuntamento a Barletta vi aspettiamo con grande affetto. Ciao e benvenuti nel Curchi Teatro, questo è il posto in cui normalmente abbiamo la nostra competizione e speriamo che il prossimo anno arriva qui. Questo teatro è stato creato nel 1870 e è uno dei dei più antichi teatres in Italia. Il suono è meraviglioso e speriamo che tu puoi giocare qui come vincere la competizione. Quindi i nostri migliori auguri per voi e per la vostra partecipazione. Questo è il posto in cui abbiamo avuto molti grandi operatori, come Giuseppe Curchi e questo è il posto in cui il maestro Carlo Maria Giulini, il Presidente della competizione, è venuto molte volte. È un posto in cui giocare e fare musica. E speriamo che questo posto possa dare un consiglio per la vostra carriera e per la vostra migliora sensazione per la vostra musica. E speriamo che ci metti direttamente in Barletta molto, molto presto. Grazie. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.